Sostegno alle famiglie fragili, meno tasse per chi opera nei settori commercio e turismo. Vanno in questa direzione i provvedimenti varati dal Comune di Tirano. Grazie alla generosità di tanti tiranesi, non solo l'amministrazione comunale è in grado di erogare ulteriori buoni spese a famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza Covid-19. Sul conto corrente aperto dal Comune sono confluite donazioni per 13.600 euro. 10.000 euro verranno distribuiti sotto forma di buoni spese ai residenti che ne faranno richiesta. Le domande si possono presentare fino al 22 maggio, sarà data priorità ai nuclei privi di qualsiasi introito, non destinatari di altri contributi pubblici e senza disponibilità di risparmi. I beneficiari saranno individuati sulla base della graduatoria predisposta dal Servizio Sociale e dell'Ufficio di Piano, valida fino al 30 giugno. Con i buoni spese le persone potranno comprare entro il 31 luglio 2020 i beni di prima necessità nei negozi convenzionati di Tirano, compresi nell'elenco disponibile sul sito del Comune, portale sul quale è anche disponibile il modulo di richiesta. Il coronavirus ha portato alla nascita di nuovi bisogni economici e sociali, destinati purtroppo a protarsi nel tempo e che necessitano di nuove forme di solidarietà, spiegano il sindaco Franco Spada, l'assessore ai servizi sociali Doriana Nata. Tre le agevolazioni approvate dalla Giunta per l'impresa, le quali se ne aggiungerà una quarta fine anno. Le tassazioni comunali TOSAP, legate all'occupazione suolo pubblico e l'imposta sulla pubblicità, non saranno dovute per tutto il 2020. E a chi le avesse già pagate verranno restituite. Chi corrisponde un canone d'affitto al Comune di Tirano godrà di una sospensione dei pagamenti fino al 1 agosto 2020. E per compensare la perdita di posti a sedere o di coperti si permette di ampliare l'occupazione di suolo pubblico esterna fino a 120 metri quadri, entro il limite di tavoli preesistente. Il modo di richiesta può essere presentato in via telematica, dando la possibilità di autorizzare in giornata le occupazioni già previste lo scorso anno, e in arco di tre giorni quelle aggiuntive. La quarta agevolazione riguarda la Tari, la tassa sui rifiuti, che l'amministrazione comunale intende abbattere in modo sensibile anche utilizzando l'avanzo di bilancio, una riduzione che verrà quantificata successivamente in base a normative nazionali. Oltre alle misure fiscali, il Comune ha predisposto un kit di dispositivi che verranno consegnati a partire da questa settimana ad ogni attività, un set di mascherine chirurgiche per i clienti, EFF e P2 per gli operatori, una colonnina per il dispenser disinfettante. Abbiamo cercato di porre in campo quanto più possibile come Comune per venire incontro alle difficoltà di un settore molto colpito dall'emergenza coronavirus, afferma la vice sindaca e assessora al turismo Sonia Bombardieri, accompagnare così la ripresa.